Un anno bisesto, un anno funesto, il 2016 soprattutto per quanto riguarda la cronaca nera nel territorio aretino. L'anno si è infatti aperto il 31 gennaio con la tragica morte della piccola Letizia e di sua mamma Marzanna, entrambe travolte ed uccise da una microcarra San Leo. Al volante dell'automobile in stato di ebrezza c'era Alex Danuttu, un romeno di 40 anni condannato, poi a 9 anni e 2 mesi di reclusione. Tra le pagine di cronaca nera spicca anche il delitto di Katia Dello Marino, la 41enne ritrovata senza vite con la testa fracassata il 12 luglio sul greto del torrente Afra San Sepolcro. Peter Polverini, un 24enne san giustinese, si trova in carcere dallo scorso settembre accusato della morte della donna. Per il 3 marzo prossimo intanto è stata fissata la data per l'udienza del processo al giovane. E sempre la calda estate 2016 sarà ricordata per il maxi colpo dell'oro. Era l'11 luglio 2016 quando scomparvero un furgone della Sea Curpole ed un vigilante, Antonio Di Stazio. Il blindato venne ritrovato poche ore dopo. Il vigilante invece si presentò alcuni giorni dopo al comando dei carabinieri di Lucca, ma del contenuto del furgone ancora ad oggi nessuna notizia. Il vigilante in carcere dallo scorso luglio è accusato di aver rubato l'oro contenuto nel furgone per un valore di circa 4 milioni. A breve però Di Stazio, il quale è già stata notificata la chiusura delle indagini, potrebbe rompere il suo silenzio. L'omicidio di Lonnano è un altro dei tragici episodi che hanno segnato questo 2016. Era il pomeriggio del 18 ottobre quando Paola Marzenta imbracciò il fucile e sparò al petto all'ex marito a Prato Vecchio. La donna si trova in carcere dalla sela del delitto quando si costituì. E sempre nel 2016 è arrivata anche la sentenza di uno dei casi di cronaca nera che per mesi ha tenuto accesi i riflettori nazionali sul territorio aretino. Il caso di Guerrina Piscai, aver detto, è arrivato proprio nel giorno in cui la casalinga, scomparsa da Caraffello il 1 maggio 2014, avrebbe compiuto 52 anni. La corte di Assise di Arezzo ha condannato a 27 anni padre Gratiena Labì, ex viceparraco di Caraffello, per l'omicidio e l'occultamento del cadavere della donna.